la dura verità eccoci qui amici e bentornati alla dura verità il podcast sul calcio senza peli sulla lingua siamo in compagnia di marco il filosofo del calcio ciao marco buongiorno a tutti enrichi biancolini il presidente di obiettivo calciatore un grande abbraccio dunque non abbiamo registrato di lunedì per degli impegni improrogabili di ricky proprio per l'obiettivo calciatore e questa registrazione che è del mercoledì mattina ci consente anche di parlare della champions però prima marco so che ci tenerebbe a commentare a fare soprattutto i complimenti ai ragazzi e alle ragazze del volley visto che siamo bicampioni del mondo per club sì 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 grandi congratulazioni a tutti e due sia i ragazzi che le ragazze e questa è la circostanza in cui mi piace ricordare che non ce l'ho con le donne in quanto atlete ma ci mancherebbe ma solo con le donne calciatrici tant'è che apprezzo invece moltissimo le donne le femmine al valvolo anzi forse addirittura più degli uomini sono bellissime da vedere bravissime e poi hanno vinto un campionato del mondo ma poi tu non ce l'hai con le donne calciatrici a te semplicemente non piace il calcio femminile non mi piace il calcio un'opinione assolutamente rispettabile dunque ricky dicevo che questo ci consente di parlare anche della champions ieri ci sono stati due temi assolutamente predominanti il primo e partirei da qui poi vi convolgo anche sull'altro è l'uscita ai gironi non è la prima volta per conte ricordo che è alla quarta apparizione in champions conte quindi ha fatto quattro coppe dei campioni sempre con risultati discutibilissimi rispetto agli obiettivi che si erano prefissati all'inizio questa uscita anticipata secondo te è giusta rispetto a quelle che erano le ambizioni dell'inter o perlomeno comprensibile o ci si doveva aspettare qualcosa di più rispetto a quello che sta facendo il campionato ma no io non me l'aspettavo tant'è vero che quando ci chiedesti un pronostico rispetto alla champions league non avevo avuto dubbi nel dirti che l'inter non avrebbe passato il girono e per me era alla terza forza di quel girono il Borussia Dortmund lo ritengo attualmente superiore e non a caso è andata così tra l'altro giocando ieri con un Barcellone rimaneggiato ma che sembra tirare fuori talenti in continuazione perché tirano fuori ragazzini frecce bravissimi tutti tecnicamente evidentemente con un ricambio generazionale pronto è un settore giovanile che tu sai per me è un mantra io lavoro su quello, lavoro sui settori giovanili quindi per me vedere una cantera così la chiamano a Barcellona così profonda, così produttiva è un bel vedere per gli occhi e il Napoli invece anche lì ti avevo prognosticato un passaggio del turno ma in realtà ti avevo prognosticato perché ritenevo il Napoli molto forte poi le vicissitudini di questi giorni ci hanno destato preoccupazione io ieri non ero più così sicuro addirittura Ancelotti è suonerato nella giornata di ieri a quello poi ci arriviamo però il Napoli 4-0 ieri cioè il che vuol dire che calcisticamente il Napoli c'è perché il Champions League non asfalti neanche il Genk Genk come si pronuncia che è l'ultima ruota del Carlo non asfalti per 4-0 se non hai qualità ma invece Marco secondo te rispetto sempre alla partita dell'Inter ieri c'è stata anche un po' di confusione di fretta da parte di Conte perché io ho visto la partita circa al settantesimo ho visto in serie prima Politano poi Esposito quindi diciamo con 4 punte e il rischio che non si prendesse più la palla a centrocampo c'era cosa che poi si è rivelata tra le altre cose un gol che poi non è arrivato dall'altra parte dell'Ostitola Via Praga avrebbe comunque qualificato il Borussia Dortmund e lì non ha perso anche un po' il bandolo della Matassa? Sì ma questi allenatori ce l'hanno il bandolo della Matassa? io non lo so stiamo sempre lì io insisto su questo argomento perché io non l'ho capito se loro hanno veramente il bandolo della Matassa o se è tutto un po' così improvvisato è ovvio che i risultati avvengono per merito di una delle azioni di tutta la società non è un caso che il Barcellona vince sempre il Barcellona non vince sempre perché c'è campione il Barcellona vince sempre perché i campioni li costruisce se li costruisce in casa, se li fa in casa addirittura hanno organizzato politicamente dei rapporti privilegiati con alcuni paesi che danno dei giovani calciatori sì questo Anzo Fati è un congolese arrivato a 7 anni politicamente si sono organizzati per creare delle agevolazioni riguardo alla cittadinanza quindi al diritto di cittadinanza questi insomma Barcellona è organizzato è organizzato quella è una scuola vera lì escono i campioni perché i campioni imparano a giocare fin da piccoli a certi livelli utilizzando certi criteri, utilizzando certe tecniche qui mi sembra tutto un po' improvvisato Conte cerca i campioni ma con i campioni si sa che vincono tutti il problema è che non è detto che potresta cercare di segna che potresta cercare di segna ma comunque non è detto che tutti riescano a ottenere quei risultati prendendo i campioni totali i campioni assoluti sono pochi quante squadre vuoi fare? nella Champions quante squadre ci sono? 32 squadre non ci sono 330-340 giocatori top quindi te li devi costruire sì ma la costruzione in questo caso insomma devo spezzare una lancia in favore di Conte è una cosa che attiene ovviamente alla società Conte può lavorare con la prima squadra con i giocatori che ha a disposizione secondo me modesto parere inadeguati per fare la Champions ad altissimi livelli ieri Lukaku sebbene abbia fatto un gol poi si è rivelato per per quello che è c'è un attaccante che poi sottoporta fa tantissimi errori in queste circostanze secondo me non te lo puoi permettere sì ma il problema non sta nel fatto cioè questi tecnicamente saranno pure bravi il problema è poi a misurarsi nel momento in cui tu sei chiamato a dare il massimo di te io faccio un paragone che adesso apparentemente non c'entra niente io ho avuto la fortuna di conoscere il campione del mondo di tiro al piattello lui mi raccontava negli anni 70 lui mi raccontava che quando sta in allenamento a casa lui mi attende li butta giù tutti li rompe tutti sì sì quando sta in gara arriva al punto che c'è ne fa 198 su 200 200 su 200 non li fa quasi mai perché ci sono tante cose che devi tenere sotto controllo e questo vale ancora di più nel calcio che è uno sport che c'ha talmente tante incogni talmente tante cose impreviste imprevedibili che se non hai una testa particolarmente raffinata da quel punto di vista per quello scopo lì non ce la fai il Barcellona vince anche per quello non vince solo perché sanno calciare meglio il pallone di Lucano vince perché sono abituati a lavorare con quel livello di stress Enrici ti coinvolgo su un altro aspetto prima di passare al Napoli di Ancelotti non sovrastimiamo però a noi un pochino quello che è il livello del nostro campionato perché l'Inter nel campionato italiano sta facendo e secondo me continuerà a fare un cammino veramente importante in Champions ieri ha giocato contro la seconda squadra del Barcellona perché era veramente insieme di ragazzi che mettono pochi minuti in campo in Liga o in Champions nelle partite che contano e si è vista comunque una differenza abbastanza netta contro l'Inter che anche a livello di motivazioni doveva fare la partita dell'anno allora non vorrei che un Inter che non passa ai gironi e che è prima in campionato ci metta di fronte al fatto e poi questo è il motivo per cui magari le nostre non arrivano quasi mai che sovrastimiamo un po' il nostro campionato lo sovrastimiamo secondo me non è un problema di sovrastimare il campionato ma è un problema di chi incontri in Champions in Champions il Genk probabilmente vale il Sassuolo ora faccio un esempio che non vuole essere discriminatorio ma non credo che Genk Sassuolo finisca 4-0 per Genk penso che se la possano già quindi il livello è quello il problema è quando incontri il Barcellona perché il Barcellona B quello rimaneggiato quello che ha giocato ieri e che è sceso in campo con 7 undicesimi di riserve perché non serviva in mezzo al campo aveva Vitale Rakitic mentre l'Inter che per motivi di infortunio ha dovuto schierare le seconderine a centrocampo giocava con Vesino e Borca Valero che non sono Vitale Rakitic e ecco quando la batosta la prendiamo infatti le italiane in Champions la batosta la prendono sempre quando vanno a scontrarsi sul livello successivo io la Champions la vedo sempre su due livelli c'è un primo strato dove ci sono i super top team che è dove ambisce a stare la Juventus e che poi è il nocciolo duro che sta puntando a far diventare la Champions League il prossimo campionato europeo quindi a bypassare i campionati nazionali e sotto tutto un mare di squadre medie che provano a fare il salto di qualità tra cui l'Inter tra cui Borussia Dortmund tra cui tutte queste squadre qui sopra c'è Real Madrid Barcellona Manchester City tutte le Bayern parliamo di passare il girone sì ma il girone non lo passi perché non lo passi perché in un girone dove c'è il Barcellona che se segui il mio ragionamento è sul gradino superiore quindi non lo bagno arriva quella si qualifica c'è un solo posto e a competere con te per quel posto c'è il Borussia Dortmund che è come te secondo me anche leggermente superiore perché la costruzione dell'Inter è partita quest'anno quella del Dortmund è partita la ricostruzione da due tre anni fa dal ritorno di Marco Reus 42 ma è lì la questione cioè l'Inter che noi pensiamo in Italia visto che è prima o seconda è prima da poco prima o seconda sia una grande squadra in realtà l'Inter è una squadra che si sta costruendo e che vuole diventare grande all'Inter per diventare grande gli mancano 4-5 giocatori quelli che ti coprono nel momento in cui i tuoi titolari che ricordiamo sono Sensi e Barella bravissimi ottimi ma che ancora devono dimostrare tanto se si fanno male quelli non ti puoi presentare Convesino e Borca Valero perché al di là della qualità Borca Valero ha 35 anni e giustamente ieri a 65 era scoppiato a correre appresso a quei ragazzini che facevano avanti e indietro a 400 all'ora non ce la fa invece passiamo ad Ancelotti perché ieri Ancelotti è stato esonerato poi Richi magari ci ricostruirai brevemente la storia così finalmente la smettiamo in questo podcast di parlare della Querel Napoli perché pure questa sta diventando noiosa estantia abbiamo parlato non è colpa nostra noi abbiamo il dovere di crona che dobbiamo raccontare ma noi abbiamo parlato per tre episodi di quello che sta succedendo a Napoli e del motivo per cui una squadra costruita per il vertice zoppica a destra e a sinistra ma infatti è proprio qui la mia domanda che rivolgo a Marco perché di questo del fatto che il Napoli zoppichi veramente mi interessa il giusto quasi nulla quello che mi interessa capire e quello che cerchiamo di fare in questo podcast è perché poi all'interno del mondo del calcio avvengono certe dinamiche ora la dinamica che vorrei che tu mi commentassi Marco è questa Ancelotti è stato in sella al Napoli fino a che ha avuto buoni risultati forse non in linea con le aspettative ma l'anno scorso è arrivato secondo ha fatto un buon cammino in Champions quest'anno alla prima difficoltà vera un campionato in cui il Napoli è a qualche punto dalla Champions ma ancora raggiungibile Ancelotti viene esonerato allora se Ancelotti è uno dei migliori allenatori del mondo come mai non è affidato a lui il compito di provare a risollevare questa squadra ma deve essere sollevato dall'incarico? E questa è la domanda delle domande è vero se questi sono così abituati a vincere e sono abituati soprattutto a ad ottenere squadre che hanno queste potenzialità così non si distingue un buon allenatore un buon manager da un cattivo manager quindi dov'è il il vulnus secondo me sta proprio nel fatto che alcuni si creano quest'area di superiorità che è assolutamente immeritata perché questi vincono solo quando vincono vengono confermati se poco poco le cose non vanno bene e lì dovrebbe invece essere dovrebbe uscire fuori il meglio di loro perché capaci di riaggiustare cose che non funzionano quando non funzionano le cose cacciano via l'allenatore che è quello che dovrebbe invece come ripeto dovrebbe occuparsi di sanare eventuali problemi noi abbiamo parlato nel podcast scorso abbiamo fatto riferimento a montella con le parole di commisso che lo confermava già le parole di commisso adesso mi sembra vadano in una direzione completamente opposta verso l'esonero ma Fabio montella sta diventando indipendibile montella non vince non vince non da questo campionato montella ha vinto tre partite dall'anno scorso sì ma io credo che qui credo che sia pure una questione di come lavora però dobbiamo fare pace anche con le nostre dichiarazioni perché o stabiliamo un principio secondo me sanio santo per cui l'allenatore è un manager di una società la maggior parte delle volte per azioni quindi una multinazionale che stabilisce che quello è l'uomo per guidare almeno per un certo periodo di tempo quella società e quindi non lo mette in discussione nemmeno di fronte alle difficoltà oppure stabiliamo il parametro opposto secondo il quale questo è semplicemente l'uomo del momento positivo o negativo ma allora a quel punto è inutile dargli tutti questi soldi cioè è lì che casca l'asino e che è dove secondo me andiamo fuori strada sul ragionamento cioè il tema è questo noi pensiamo tu hai ragione l'allenatore di una squadra di calcio è come un manager di un'azienda quindi ha sotto di sé di una super azienda lascia stare la super azienda lo determina il fatturato ma anche il manager di una piccola impresa di cinque persone e quello fa il manager ha sotto cinque persone da dover gestire l'allenatore di calcio ne ha 28-29 quelli che sono una rosa così come il direttore sportivo ha i 28-29 e più l'allenatore e più quindi è una questione di gerarchie noi ci stupiamo del fatto cioè noi dov'è che ci facciamo la domanda quando diciamo questi guadagnano un sacco di soldi e quindi devono dare qualcosa perché guadagnano tutti questi soldi perché sicuramente sanno qualcosa che noi non sappiamo sanno fare qualcosa molto meglio dell'uomo della strada Ancelotti è molto diverso dall'allenatore del Savio degli allievi che magari ha laureato in scienze motorie perché? perché guadagnano un sacco di soldi non è così guadagnano un sacco di soldi perché muovono un sacco di gente basta Ancelotti è famoso lo conoscono milioni di persone e quindi milioni di persone diviso Ancelotti fa milioni di euro di stipendio Tarquinio Megna l'allenatore del Prischi Ghettone che magari è laureato in scienze motorie ed è bravissimo guarda ti faccio un nome e cognome così usciamo dallo scherzo Massimo De Paoli Massimo De Paoli che è il più grande esperto di calcio giovanino in Italia ed è un allenatore un maestro di tachini ma è un allenatore ha il patentino per allenare anche in Champions League è un allenatore anche certificato non allena e non ha mai allenato nonostante molti gli avessero avanzato parlo di Serie A richieste perché? perché lui ha certi tipi di di giochi non ci sta ha certi tipi di compromessi non ci sta probabilmente non ha fatto neanche carriera perché? perché non è così famoso tanto è vero che chi fa l'allenatore il 90% di allenatori chi sono? ex calciatori ex calciatori quindi noi lì usciamo cioè la domanda è allora se Ancelotti la ribalto se Ancelotti guadagnasse 2000 euro al mese sarebbe io farei lo stesso di anticonoggiamento? no cioè secondo me se tu sei il Neturbino che non raccoglie bene l'immondizia siamo portati a giustificarlo perché diciamo vabbè poverino però certo si fa un mazzo così per 1200 euro al mese ma che pretendi? ma io non metto in discussione Ancelotti o l'allenatore di turno io metto in discussione chi lo solleva dall'incarico o lo trasforma in un eroe rispetto a valutazioni che mi sembrano assolutamente estemporanee cioè le valutazioni del momento ma lo sono ma è vero che il calcio lo sappiamo tutti voglio dire guardiamo le partite da tanto tempo ma non lo sanno non lo sanno perché ma io non lo sanno cioè perché perché non ha funzionato questo rapporto tra Ancelotti Napoli non lo sanno neanche i protagonisti ma scusa Marco se poi oggi vengo a leggere le dichiarazioni e sento che i calciatori hanno pianto negli spogliatoi all'esonio di Ancelotti allora non c'è nemmeno un problema di rapporti quella potrebbe essere intanto ecocresia sia dei calciatori qualora abbiamo fatto davvero sia dei giornalisti che l'hanno raccontato perché questo è il mondo dove l'ipocrisia è regna sovrana ai massimi livelli quindi che io non vi intenerisco di fronte a certe notizie perché sarebbero anche per loro insomma sarebbe per loro una un'ignominia quella lì se fosse vero ma in ogni caso il problema a cui sta nel fatto come diceva giustamente Riccardo questi questi sono sono dei personaggi strapagati solo perché evidentemente muovono una certa quantità di soldi però questo non ha niente a che vedere con il calcio cioè qui allora non chiamiamoli i tecnici chiamiamoli i frontman chiamiamoli un altro modo no perché sennò viene giù tutto il coguzzaro vabbè ma allora siamo qui per discutere il coguzzaro mica siamo qui per discutere ma non solo ma ci sono stati anche degli allenatori semi sconosciuti messi a capo di grandi società Sarri tanto per dirne uno era un allenatore che aveva fatto una piccola esperienza con l'Empoli e che veniva dal nulla lì c'è stata la lungimiranza dello stesso presidente che oggi sono nel dire io a capo manager della mia società ci metto lui perché valuto che abbia delle qualità diverse da quelle che offre l'ex calciatore è questo che a me sì ma ce ne sono ce ne sono ce ne sono qualcuno c'è un Sarri ogni tanto esce il problema è che mentre se tu prendi Ancelotti il pubblico ti osanna e poi tu puoi dire beh io ho preso Ancelotti se tu prendi Sarri che viene dall'Empoli e Sarri sbaglia cioè non diventa Sarri la piazza non te lo perdona perché tu hai preso uno sconosciuto che non c'era nessun motivo di credere che potesse dare qualcosa che questo non sia vero è un altro paio di mani guardate io credo che ci siano due grandi problemi che noi e queste sono le cose secondo me di cui dobbiamo parlare primo i patentini vengono dati per allenare a certi livelli solamente a chi ha una graduatoria a livello di punteggi che puoi ottenere solo se hai fatto l'ex calcio non il patentino l'accesso allo studio l'accesso allo studio ancora peggio e quindi poi non mi consenti neanche di andare a studiare eventualmente nel famoso supercorso di Coverciano non mi consenti neanche di andare sono a numero chiuso e non entri e questa è una cosa intollerabile perché fuori è pieno di gente preparata o che ha le potenzialità per prepararsi magari anche con delle lauree appunto inerenti che non hanno l'opportunità di fare quella carriera nemmeno potenziale poi magari non verranno mai selezionati per i motivi di cui parli tu perché c'è bisogno del frontman e questo va benissimo e rispettabile quindi questo è un punto il secondo punto è che credo che ci sia la convinzione all'interno del mondo del calcio che questi ex calciatori che poi diventano allenatori siano più preparati di quelli che invece sono fuori quando invece io sono convinto che non sia assolutamente così e ne sono convinto anche sulla base di quello che ho visto anche con l'obiettivo calciatore con De Paoli con Caligaris che sono persone che hanno molto da dire sul calcio che ti illuminano quando parlano rispetto ad altri allenatori con cui ho avuto il piacere di parlare personalmente che hanno allenato in Serie A che non sono in grado di fare una frase di senso compiuto o di trasferire un concetto calcistico che sia degno di nota quindi ragazzi questi sono i problemi che deve affrontare il calcio italiano e da cui dobbiamo ripartire se no continuiamo a dare a noi non interessa 3-4 milioni quello è poco importante a degli allenatori e poi Marco si stupisce del fatto che non crescono nuovi giovani talenti ma come possono crescere questi non sanno niente questi non sanno niente non hanno le basi ragazzi per fare qualunque mestiere ci vogliono le basi se no se non hai le basi vai a fare il muratore ma architetto non ci diventi mai anche se costruisci mille palazzi o fai un corso di laurea in architettura o architetto non ci diventi questi qui noi pretendiamo che da muratori diventino architetti allora hai calciato il pallone addirittura li facciamo addirittura manager addirittura dirigenti allenatore pure pure non so quale dei due ruoli sia più più addirittura dirigente ma non è così impegnativo no è una questione di competenza ragione Marco ragione Marco cioè qui un ex calciatore difficilmente ha le competenze per fare il dirigente a meno che non faccia un percorso per acquisirle c'è stata la cherelle di Totti Totti è entrato in dirigenza della Roma il giorno dopo che ha smesso di giocare e per due anni lui si lamentava che nelle decisioni importanti lui lo tenevano un po' a lato ma non c'ha i prerequisiti per gestire le decisioni importanti posto che se facessi un percorso di studio per acquisirle poi il fatto di essere Totti è attaccato di guadagnare infatti Chiellini non so se ne abbiamo già parlato ma Chiellini è un ragazzo talmente come dire proiettato verso il suo futuro che si è preparato durante il suo percorso di calciatore si è preparato all'università quello si è preso una laurea in economia e commercio perché il suo obiettivo è quello di diventare dirigente ma un ragazzo che a ritiro invece di giocare la playstation come tutti quelli che stanno in ritiro i calciatori che stanno in ritiro si porta i libri e si mette a studiare e poi va a dare gli esami di economia e commercio quello ci avrà le idee un po' più chiare quello sarà un po' più preparato non mi stupirei se Chiellini diventasse dirigente ci mancherebbe altro ma quello sarebbe costruito però diventerà come ci sono i calciatori che sono diventati dirigenti perché hanno studiato ma il mondo del calcio non è così ho capito ma siccome io sono libero di parlare e di dire che a me non piace e non lo giustifica a me il fatto che questi guadagnino un sacco di soldi e che quindi siccome muovono le persone allora hanno a me quello non mi interessa ma ci facciamo sempre le stesse domande quando la risposta è sempre quella cioè non ce n'è un'altra la risposta è che il mondo del calcio noi lo pensiamo più complicato di quello che è perché è un mondo milionario e di solito in un mondo milionario cioè apple per diventare l'azienda più grande del mondo fa della roba che tecnologicamente molti di noi non sanno neanche cos'è mentre sul calcio pensiamo che sia io penso assolutamente che sia molto più difficile di quello che ci raccontano perché quando Marco diceva prima quella cosa giustissima del paragone del tiro al piattello è una cosa giustissima vera studiata cioè come l'aspetto emotivo va a influire sulle prestazioni quella è una cosa su cui devi lavorare e ci devi lavorare con dei professionisti ma io sono d'accordo quando devi lavorare sulla tecnica analitica dei giocatori anche quelli di serie A perché poi ora arriviamo alla partita che abbiamo visto dal vivo ci sono in serie A giocatori tu hai commentato Lazzari che non è riuscito a fare un cross in tutta la partita che non sono in grado di compiere i gesti fondamentali è perché non sono in grado di lavorarci gli allenatori quando abbiamo visto sabato durante la partita i tanti tantissimi calci di punizione da tre quarti campo e noi prima del lancio dicevamo ecco qui ora la buttano in mezzo è perché non c'è un'idea di gioco a livello geometrico non sanno cosa fare con un rettangolo e 22 giocatori che occupano un rettangolo quindi è molto più difficile di come ce la raccontano il problema è che non si impegnano non so se per volontà o per valutazioni anche di tipo commerciale come facevi tu a selezionare persone che sicuramente ci sono perché le conosciamo sì ma è una scelta con cui è una scelta scomoda è una scelta con cui puoi bruciarti quando Berlusconi assunse Sacchi e Sacchi era quello che noi stiamo dicendo adesso cioè un super competente con le sue idee per l'epoca tra l'altro rivoluzionarie che non aveva mai dato un calcio al pallone in vita sua quindi esattamente Berlusconi quando assunse Sacchi Milano-Rossoni era sceso in piazza perché era considerata una scelta scellerata mettere in mano la ricostruzione del grande Milan perché Berlusconi ci sta mettendo dentro i giocatori avrebbe preso di lì a poco gli olandesi quindi era già una squadra allestita avrebbe vinto Sacchi avrebbe vinto Scudetti e Champions gli anni successivi perché? perché non aveva l'appeal mentre Ancelotti ha l'appeal Gattuso ora hanno preso Gattuso a Napoli non so se è già ufficiale mentre parliamo è ufficiale hanno preso Gattuso ora Gattuso è un uomo si percepisce un uomo di grande elevatura morale questo lo possiamo dire difficilmente potranno smentirci un uomo con il senso del dovere un combattente l'ha sempre dimostrato anche da calciatore sicuramente conosce di calcio perché se non altro è il campione del mondo ma noi sappiamo per certo che Gattuso è in grado di fare allenatore inteso come competenze comunicative conoscitive i sistemi attentivi emotivi la psico coordinazione certo che no certo no certo no assolutamente Gattuso non risolve il problema Ancelotti ma è pieno di brave persone al mondo cioè di brave persone Gattuso è pieno il mondo ma il problema è che non basta essere una persona per bene per fare certe cose per fare certe cose oltre ad essere una persona per bene questo è prerequisito essenziale per tutti e devi anche saper fare quello per il quale ma devi saperlo fare a livello tecnico scientifico devi essere preparato ma tu lo senti Giammarissi quando voi dite il filosofo del calcio io non sono un filosofo il filosofo in realtà poi chi è? è colui che ama la conoscenza quindi io proprio perché amo la conoscenza mi sento come Socrate un eterno ignorante e cerco di capire cerco di imparare questi non fanno niente per imparare non c'è niente tant'è che non dicono niente di nuovo da anni l'ultima volta appunto nel mondo del calcio del nostro calcio qualcosa di nuovo l'ha detto Sacchi che guarda caso come dice Ricchi era uno studioso di calcio ci sono studiosi di calcio e a questi che bisogna dare eventualmente in mano le redi e poi Sacchi alla settima giornata del primo campionato con il Milan tra l'altro adesso c'è un bellissimo speciale che gira non mi ricordo se con Kondo o con qualcun altro ma in cui si ripercorre alla settima giornata lo stavano mandando via perché la squadra non ingranava non c'erano i risultati perché questo vuol dire non ingranava e il Milan sembrava era talmente tanto rivoluzionario l'approccio lui ha inventato la difesa in linea fuori gioco prima Sacchi si giocava con il libro lo stopper che succedevano in campo cose strane è un po' come quando abbiamo visto la prima volta il Barcellona di Guardiola che vedevamo tutti questi passaggetti a 50 metri dalla porta non sto parlando di non voglio dare merito a uno o all'altro sono modi lo stavano mandando via perché la piazza era sollevata perché non te lo perdonano una scelta del genere non te la perdonano mentre se tu metti Ancelotti adesso parliamo Ancelotti ma chi per lui beh quello quel nome porta in sé la certezza che se non ci riesce lui non ci riesce ma io credo che la piazza poi non ti perdoni eventualmente la mancanza di risultati indipendentemente da chi c'è alla guida di queste squadre o ti premia e ti eleva con gli allenatori anche sconosciuti che poi vincono come è stato il caso di Sacchi però allora qui il problema è ma chi decide un gruppo dirigente o la piazza perché quando la piazza è stata chiamata a decidere tra Barabba e Gesù Cristo ha scelto Barabba quindi non lo so io se poi ma io infatti credo che no Riccardo parla di influenza della piazza e questa senza dubbio c'è cioè perché pago il biglietto io ho diritto di incidere sulle scelte allora pure quando vado al cinema ho diritto di incidere sulle scelte del regista non è uguale perché non ci puoi più fare niente il film è girato mentre il film i tifosi lo vogliono girare tanto è vero che quando la Lazio quando Beppe e Signori doveva andare via dalla Lazio c'era già l'accordo con il Parma perché Signori andava a Parma e la Lazio prendeva Buffon Duram e Cannavaro che poi tre anni dopo sarebbero andati alla Juve a vincere tutto la piazza scese in piazza senti che bel gioco di parole e vietò all'epoca la presidenza di una protesta infinita per calcio incisi però io credo che qui perché Mancellotti chi l'ha mandato via De Laurentiis ma Mancellotti l'hanno mandato via questo l'hanno mandato via i napoletani perché i napoletani hanno dovuto come no ma sinceramente nemmeno mi interessa mi interesserebbe invece che si cominciasse all'interno di questo mondo a parlare di cultura cioè se un allenatore deve essere selezionato deve essere selezionato secondo dei criteri se ci deve essere una discriminante quella discriminante deve essere della laurea scienze notorie non può essere aver calcato i campi di serie A perché anche un analfabeta può aver calcato i campi di serie A e con tutto rispetto per l'analfabeta sicuramente non è in grado di trasferire nozioni perché non è in grado di apprenderle che è analfabeta non è in grado di comunicare e tutti abbiamo giocato a pallone sappiamo quanto sia importante la comunicazione all'interno di uno spogliatoio non è in grado di gestire un gruppo di lavoro perché quello è un gruppo di lavoro per cui secondo me c'è proprio bisogno che questi presidenti e mi dispiace che l'abbia fatto De Laurentiis questo sonoro perché De Laurentiis sembrava voler cambiare qualcosa devono cominciare ad introdurre questi elementi di novità altrimenti noi continueremo a parlare di calcio italiano e del futuro del calcio italiano riempendoci la bocca di parole vuote e private di ogni significato se no se no vogliamo scienze motorie addirittura mi risulta che ci sia scienze calcistiche ma allora perché un ragazzo un giovane deve prendere una facoltà di questo tipo non per diventare allenatore perché se non ha giocato non hai crediti per fare il corso a coperciano è quello che è l'unico che mette però noi su questo dobbiamo batterci per questo dobbiamo batterci anche perché mi collego vi riporto al calcio giocato alla partita l'azione che abbiamo visto io partirei dall'analisi dei fondamentali abbiamo visto grandissimi giocatori ottime cose ma abbiamo visto anche alcuni che veramente fanno fatica a fare le cose basi che servono in Serie A cioè questo è un problema questo è un problema formativo quello che dite io ribadisco la mia posizione di prima per arrivare al nocciolo ma perché a me interessa poco chi allena in Serie A mi interessa invece che quelle competenze di cui vi ho parlato siano a disposizione dei giovani calciatori perché tanto quando Lazzari c'ha 26 anni sì ci puoi lavorare ma è difficile che raddrizzi e parlo di Lazzari perché l'ho visto ce l'avevo sotto la tribuna a scorrazzare durante il primo tempo sulla destra ha fatto 10 discese e neanche un cross messo bene ma più del 50% di cross è proprio fuori fuori sul fondo un disastro quindi vuol dire quello è fondamentale dove da ragazzino a questo non gli hanno insegnato a crossare la palla non posso pensare se altrimenti invece vedevo ieri quelli del Barcellona quelli sanno trattare la palla ci hanno 17-18 anni e quindi vuol dire che c'è qualcuno che lavora in maniera diversa da noi il Lazio Juve poi intanto ci siamo divertiti credo tantissimo sempre bellissimo io tantissimo tra l'altro faccio pure faccio pure ammenda delle mie delle mie qualità profetiche avevo detto al podcast precedente che la Lazio che la Rio avrebbe vinto anche io con la Lazio perché pensavo che così in qualche modo potesse uscire la sua superiorità e invece questo non è accaduto non è accaduto e quindi intanto faccio ammenda e poi analizziamo perché non è accaduto io riporto una riflessione che ho sentito da Furio Focolari che è un opinionista spesso ospite Radio Radio che ha detto una cosa secondo me intelligente la Lazio è una squadra molto scomoda da affrontare perché dà il meglio di sé quando il ritmo cala cioè quando il ritmo non è altissimo e vertiginoso la Lazio è veramente una squadra antipatica perché ha un ottimo possesso palla grandi palleggiatori tecnica proprio di gestione del pallone non solo nel palleggio ma anche nelle aperture e i due o tre giocatori che stanno più a loro agio a ritmi bassi e i due o tre giocatori che sono cioè Luis Alberto a ritmi alti è un buon giocatore a ritmi bassi diventa Maradona è devastante perché mette il pallone dove vuoi mi ricorda è probabilmente più veloce ma Liverani era così cioè Liverani se gli lasciavi un metro e giocavi al ritmo suo ti mandava al manicomio se alzavi il ritmo usciva dal campo e questo è successo ad esempio il Lazio Juve se l'arriva a rivedere i primi 25-30 minuti la Juve ha spinto parecchio insomma ha avuto anche delle buone occasioni poi come è calato il ritmo complice anche l'uscita dal campo di Betancur che è il mio modo di vedere sta facendo un'ottima partita la Lazio è venuta fuori e se i suoi giocatori continuano a tenere a tenere questa condizione a tenere come dire serrate le fila per usare un termine un termine noto questa è la squadra che può togliersi delle soddisfazioni e può e può dare fastidio a tutti a me ha colpito moltissimo il fatto che la Juventus l'abbiamo commentato dallo stadio giocasse con i suoi giocatori più avanzati che erano Dybala e Ronaldo sulla linea dei centrocampisti della Lazio non dei difensori cioè venivano a prendere palla talmente bassi che giocavano circa a 20-25 metri dalla porta quindi la prima linea i Acerbi Radu Luis Felipe non erano mai messi sotto pressione tant'è che la Juve l'unica vera occasione che ha avuto il gol viene da Ronaldo che prende palla centroavanti e l'altra occasione che ha avuto è stata con Bernardeschi che scarta il portiere lanciato in posizione di centroavanti e questo mi sembra incredibile per una squadra che dovrebbe giocare un calcio superoffensivo come sono state le squadre di Sarri che infatti registra pochissimi gol all'attivo sì io credo che l'analisi di Righi abbia sì senza altro dei fondamenti però io credo che adesso forse dire una bestemmia secondo me la qualità del centrocampo della Lazio è superiore alla qualità del centrocampo della Juve e credo che i due diciamo più dotati che sono in quel caso erano della Juve che erano Ronaldo si mettevano più indietro come dice giustamente te si mettevano più indietro perché in realtà dovevano sopperire a quella deficienza qualitativa e quindi se ne andavano un po' a cercare il pallone perché il centrocampo della Juve non è capace di fornire una quantità adeguata di palloni alle due punte quindi in qualche modo vabbè me la devo andare a prendere io la palla io l'ho vista così cioè immobile non è mica più forte di Tibala però fa più gol perché fa più gol perché è rifornito meglio è rifornito di più assolutamente poi ha un giocatore come anche meno dotato di Tibala ma se gli dai tanti palloni prima o poi uno te lo mette dentro il problema è che se tu gliene dai uno solo quando addirittura se lo deve andare a cercare deve fare tutti i tripli tu vedi che alla fine la Juve ha sempre anche le stelle hanno brillato quando di luce propria cioè quando hanno fatto le azioni ma personali cioè non abbiamo mai detto mamma mia che bella azione che ha fatto la Juve ogni tanto lo diciamo ma non so poi le azioni magari non ci sono rimaste nella memoria perché non hanno non sono state finalizzate poi col gol quindi sì bella azione però non è fatto non è la Juve di Sarri e quando fai i gol lo fai perché ha fatto una bella azione il protagonista e tant'è che poi Tibala lì ha pure fatto quell'errore di non dare la palla di Ronaldo quindi evidentemente tra di loro non vanno neanche d'accordo perché queste sono cose che si vedono allo stadio le vedi molto bene in televisione sì ma la disamina che fai è interessante anche tatticamente faccio un inciso secondo me non è detto il centrocampo della Lazio può essere all'altezza di quello della Juve almeno nei tre no Leiva Milinkovic Luiz Alberto e poi Tancur Pjanic e Matuidi giocano insieme da tanto e conta per due mezzali in centrale giocare insieme da anni conta però rispetto a quello che dicevi volevo dire può essere anche questo sopperire ad una mancanza di qualità ma allora devi avere e questa deve essere l'indicazione dell'allenatore centrocampisti che si buttano dentro a ripetizione altrimenti tu l'aria poi non la riempi mai sì ma questo è il problema che però è vero perché è l'unica strada che hai contro la Lazio perché parliamo di quello ma è la stessa chiave tattica che poi se non ti svolta ti impicca la partita perché quando la Juve ha iniziato a mandare dentro i centrocampisti la Lazio è ripartita nel vuoto ci sono state sì anche poi in dieci sì poi è vero c'è stata l'espulsione di quadrato che sicuramente ha spostato ma è stato quello il momento quello in cui hai detto in cui evidentemente qualcosa è scattato nella Juve per dire beh iniziamo a andare dentro pure con qualche centrocampista se no qui da antiapportiere non ci arriviamo mai perché e lì a quel punto però ti esponi perché poi quando lasci a campo aperto a Correa Lazzari che non crosserà ma corre come un centometrista immobile questa gente qui poi ti fa male però io credo che sia una questione di DNA cioè queste cose non è che tu durante la partita le devi dire ma l'allenatore che si mette lì a strillare come un furioso a dare disposizioni durante la partita mi fa venire il sospetto che questi improvvisino perché in teoria un allenatore dovrebbe stare seduto tranquillamente in panchina guardare la partita più o meno come la guardiamo noi certo con un po' più d'attenzione ma insomma tutto dovrebbe essere già già predisposto puoi fare una piccola correzione non che tutto il tempo stai a dare indicazioni perché evidentemente è evidente che stai improvvisando io la vedo come te tra le altre cose insisto su questo poi sarebbe curioso lo farò tirare fuori una statistica questi calci d'angolo e calci di intuizione buttati in mezzo sono proprio la prova provata del fatto che non c'è una preparazione in allenamento la statistica che vorrei tirare fuori è che i risultati si ottengono perché mi sembrano percentualmente bassissimi e che siano così bassi cioè che siano sufficientemente alti da essere più vantaggiosi che tentare una giocata francamente non lo credo guarda io una volta mi sono divertito però è successo un po' di tempo fa non mi ricordo esattamente i dati però posso andarci vicino se non mi ricordo male mi andai a guardare proprio le statistiche dei calci d'angolo nel campionato italiano e intanto sbaglio di poco se mi sbaglio comunque l'11% dei dei cross da calcio d'angolo quindi tutto piazzato tutto sistemato tutto predisposto non era un'azione ma insomma da calcio d'angolo quindi per calcio da fermo l'11% 10-11% di azioni sono sono diventate call quindi è bassa la percentuale cioè devi fare 10 cross e la voglio verificare perché mi sembra addirittura altina un calcio d'angolo su 10 da calcio d'angolo immagina però quando invece l'azione si svolge in in movimento in quel caso secondo me le probabilità diminuiscono di molto perché non c'hai tutta il tempo per predisporti però non hai nemmeno la difesa schierata ma la difesa è quasi sempre schierata Fabio perché la difesa è organizzata per schierarsi guarda se c'è una cosa che in Italia è organizzata bene è la difesa questo bisogna dirlo cioè raramente poi dopo possono commettere errore ieri screen hanno andato a stoppare il tiro però era schierato cioè lì c'era poi se non lo fai però è un errore tecnico però tattico lui stava lì cioè le difese ci sono sempre è difficile e poi sono pure insomma quasi tutte le squadre hanno bei difensori anche fisicamente ben impostati secondo me è difficilissimo statisticamente difficile riuscire da un cross men che mai da un traversone a risolvere quindi state d'accordo con me la preparazione di uno schema di una giornata assolutamente ma infatti la Lazio come va in gol si si la Lazio come in gol sono imbucate ma allargare il gioco serve qualche po' ma poi perché in tutti gli sport del mondo ci sono gli schemi tranne che nel calcio io divento matto perché il calcio è l'unico che si gioca con i piedi ma non è vero il calcio 5 che anche su spazi più ridotti appunto spazi più ridotti pallone che si controlla meglio suola senza tacchetti campo sempre liscio ma quindi secondo voi la probabilità è più alta è più alta la probabilità di fare i gol buttandolo in mezzo no 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 assolutamente hai ragione hai ragione ma quando fai la domanda perché nel calcio perché nel calcio è quello che dicevi prima dell'Inter cioè perché Conte al 75esimo ha messo due punte ha torto due centrocampisti perché ha detto metto due 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 sull'esterno De Guiù neppolitano butto dentro questi ultimi 10 minuti più palloni possibili e tra Muflone e Martinez e qualche difensore che mando dentro perché De Frey si è scacciato un paio di volte magari qualcuno che la inzucca e me la mette dentro e mi risolve la partita è fuori però dal progetto tattico e quello è il problema cioè non è scientifico non è scientemente pensato così la Lazio di Sergio Concesao a destra fece 11 gol consecutivi di testa con Vieri con Concesao al cross evidentemente c'era Ericsson in panchina evidentemente lavoravano su quello schema lì come i gol di Caillon sulla palla è la stessa cosa bravo bravo lo schema classico del Napoli palla dentro palla fuori cambio lato su Cagliaconne che arrivava dietro le spalle del difensore sempre libero che non faceva collo la rimetteva in mezzo per Mertens che arrivava che quell'anno non ha fatti 30 sono giocate realizzate difficili di realizzare sul calcio d'angolo dovrebbero fare ma sul calcio da fermo ma non lo fanno non lo fanno bene ragazzi allora la nostra puntata giunge al termine e noi ci rivediamo lunedì prossimo andremo in onda questa volta di lunedì al commento delle gare del weekend vedremo se l'Inter sarà ancora capolista grazie a Marco il filosofo del calcio e a Righi Biancolini e ci vediamo la settimana prossima con La Dura Verità La Dura Verità a Righi Biancolini